Non è abituata alle telecamere, ci dice con un sorriso Carmelita Cerruzzi, che questa mattina è partita alla volta di Domeni. Un nome è un luogo sconosciuti, di cui la maggior parte ignorava l'esistenza, fino a poche settimane fa, fino a quando non sono arrivate le immagini di un popolo migrante che vive lì accampato in condizioni disumane. E Carmelita ha scelto di andare, di non essere una mera spettatrice, anche se per pochi giorni, di toccare con mano quello che sta succedendo e che ritiene un esodo epocale. Parto per i Domeni, al confine tra Grecia e Macedonia, per andare a verificare e visitare la situazione drammatica che si sta vivendo in questo momento ai confini dell'Europa, dove ai Domeni c'è il più grande campo profughi d'Europa con all'interno 12.000 persone che vivono in condizioni di assoluta indigenza, senza alcuna assistenza medica, sanitaria, senza alcuna assistenza di tipo, di qualsiasi genere, senza nessun supporto rispetto ai generi di prima necessità, che stavano procedendo nel loro cammino alla ricerca di un futuro migliore verso l'Europa e i cui confini invece sono stati interrotti e sono stati trattenuti in uno stato di detenzione vero e proprio all'interno di questo gigantesco campo profughi. Quindi come zona 22 abbiamo deciso di portare una testimonianza anche qui in Abruzzo di quello che sta accadendo in questa fase che riteniamo sia un momento veramente epocale per l'Europa, che sta mettendo veramente a dura prova anche il concetto stesso sul quale è fondata e nata l'Europa, ovvero quello della cooperazione e della solidarietà tra i popoli. Quindi parti da sola, parti con un gruppo, come sei organizzata? Io parto con altre due persone che fanno parte di una realtà a Parma che si occupa di giornalismo e fotografia, però sono collegata con il gruppo che si muoverà dal 25 al 29 di persone che partono dall'Italia, circa 200 persone, che parteciperanno alla marcia Over the Fortress, lanciata da diverse associazioni e organizzazioni, tra cui Melting Pot, gli amici del Baobab e diversi singoli che hanno deciso di aderire per portare un supporto concreto e solidale a queste persone che si trovano in una situazione così difficile. Quindi ecco, in concreto che aiuto pensate appunto di poter dare, al di là di quella che è già straordinaria, che è una grossa testimonianza, che comunque la presenza e la partecipazione, comunque l'esserci là. Sicuramente un po' per i tempi con cui ho preso la decisione di partire, che sono stati veramente repentini e stretti, non siamo riusciti a portare a livello materiale degli aiuti come medicinali o beni di prima necessità. Però il significato che vorremmo attribuire a questa mia esperienza, a Di Domeni, è quello di portare appunto un racconto di questa situazione che molto spesso è sottovalutata e non raccontata a fondo e che invece è una situazione assolutamente drammatica che sta vedendo messa a rischio la vita di decine di migliaia di persone nelle condizioni più inumane e per un'Europa che ha saputo superare la Seconda Guerra Mondiale e l'Olocausto. Questa mi sembra veramente una delle tragedie e degli orrori più grossi che si possano verificare in questa fase storica. E quindi dare il nostro sostegno, metterci in rete con le altre realtà che stanno facendo volontariato all'interno di queste zone è andare a prendere contatti con chi sta soffrendo questa situazione di assoluta emergenza e questo è il contributo che vorremmo dare con questo mio viaggio.